3 dicembre 1971. Il Pakistan intensifica i raid aerei sull'India, distruggendo quattro aeroporti. Il governo indiano dichiara lo stato di emergenza. È l'inizio di un breve conflitto che porterà all'indipendenza della parte orientale del Pakistan, che prenderà il nome di Bangladesh. La casa era bruciata e il bufalo non c'era più. Ci hanno detto che i pakistani lo hanno portato via. Hanno portato via anche tutte le ciotole e hanno bruciato le stuoi. Noi manchiamo di tutto. Non è ancora giorno quando suona il primo allarme aereo. Sono le 4.30. La casa era bruciata e il buon allarme aereo.